Sicuramente è importante che ci siano delle regole. Qualunque tecnologia innovazione deve avere comunque dei parametri e dei criteri che la guidino in una maniera che porti allo sviluppo della società. Io sono sempre a favore della discussione e questo è il mio pensiero personale comunque, è una regolamentazione pensando al potenziale per le cose positive e negative. Dipende da quello che vogliamo creare, non c'è un limite alla capacità umana di creare e sognare. L'intelligenza artificiale, voglio ricordarlo che per come la intendiamo noi, è un copilota, è qualcosa che ci aiuta ad aumentare le nostre capacità e le nostre possibilità. Un altro elemento che secondo me gioca a favore dell'intelligenza artificiale è il fatto che è già accessibile a tutti, tramite Bing ma anche altre compagnie ci stanno lavorando sulle loro versioni dell'intelligenza artificiale. Quindi ad un certo punto di vista c'è una democratizzazione delle possibilità portate dall'intelligenza artificiale, che dal mio punto di vista, personale di Moni Corsino, può solo creare dei vantaggi. Veramente voglio sottolineare questo punto. L'importante non è costruire un'intelligenza artificiale, è creare un'intelligenza artificiale responsabile, che sia a servizio dell'umanità e che renda la nostra società e il nostro mondo migliore.